Buongiorno, vedo collegati Martorina, la dottoressa Florian, il dottor Marta Flotto, buongiorno, mi confermate che il collegamento funziona bene, mi sentite bene? Sì, sì, sì. Bene, ottimo, allora direi che possiamo cominciare, mi presento, mi chiamo Romana De Micheli e mi collego dalla redazione di Cannabis Terapeutica.info e il magazine online che quotidianamente si impegna a fare informazione sul settore, abbiamo aderito molto volentieri all'iniziativa di Clean, per creare questi momenti di confronto su tematiche specifiche riguardo alla cannabis terapeutica. Quest'oggi affronteremo l'argomento Covid e cannabis terapeutica, ma prima di entrare nel merito vado a presentare gli specialisti che ci aiuteranno ad approfondire l'argomento con spessore scientifico. Allora abbiamo il dottor Marco Bertolotto, socio fondatore di Clean e direttore clinico della clinica, la dottoressa Valentina Florian, specialista in alimentazione presso Clean e Salvatore Martorina, direttore operativo di Clean. Clean è la clinica di medicina integrata con focus su cannabis terapeutica che sta facendo un ottimo lavoro in questo settore, aprendo proprio a 360 gradi le potenzialità della cannabis su campo con i pazienti. Allora, l'argomento Covid e cannabis terapeutica ha raccolto grande attenzione mediatica, l'abbiamo visto anche sul sito di Cannabis Terapeutica, c'è stato un fiume di click sugli articoli che hanno parlato di questo studio che è uscito appunto a gennaio che evidenzia, sembra almeno evidenziare, poi voglio chiedere anche a voi appunto conferma di questo, la capacità di alcuni componenti della cannabis di contrastare la replicazione delle cellule cellulare del Covid-19. Diciamo che poi l'attenzione mediatica ha fatto sì che sull'argomento si dicesse tutto il contrario di tutto, quindi mi sembra giusto fare un po' il punto della situazione, chiederei a questo punto al dottor Bertolotto se ci può illustrare effettivamente che cosa dice questo studio. Sì, tanto ve lo faccio vedere, lo studio è questo qua. Lo metteremo poi come link, il link alla pubblicazione dello studio nei commenti. Va bene, ok, questo è uno studio diciamo così interessante e soprattutto inaspettato, non ci aspettavamo certamente che uscisse qualcosa del genere. Durante le prime fasi del Covid, della prima ondata di Covid si è parlato molto del possibile utilizzo della cannabis, però senza che ci fosse nulla, siccome era un processo infiammatorio, nel Covid è un processo infiammatorio, quindi la cannabis era proprio tanto infiammatorio, un po' quello. Questo studio invece proprio parla della capacità di alcuni cannabinoidi, in questo caso il cannabigerolo acido e il cannabidiolo acido, di bloccare l'ingresso del virus all'interno delle cellule. Sapete che il virus è un coronavirus, quindi ha degli spike, ha delle punte sulla superficie, queste punte si legano a dei recettori particolari, che sono i recettori per le acce che sono sulle nostre cellule ed entrano dentro la cellula. Questi cannabinoidi, il cannabidiolo acido, il cannabigerolo acido, si legano agli spike ed impediscono al virus di entrare nella cellula. Quindi messa così, sembrerebbe che la cannabis ha una proprietà antivirale importante. Di fatto questo è uno studio che è stato fatto solamente in vitro, quindi in provetta, quindi sono stati isolati degli spike, sono stati isolati dei componenti della cannabis, sono stati miscelati, messi assieme e dobbiamo considerare che i cannabinoidi che sono stati utilizzati sono cannabinoidi acidi, cioè legati a un gruppo COOH, come si trovano in natura. Quando noi li assumiamo, li assumiamo attraverso il calore, in questo caso alcuni subito dopo che è uscito questo lavoro hanno incominciato a dire beh ma allora se noi fumiamo la cannabis, siccome il virus lo prendiamo per via respiratoria, se io fumo la cannabis, in automatico blocco la propagazione del virus. Ma nel momento in cui, io dico magari, forse così sarebbe un gran colpo, il problema è che nel momento in cui io vado a scaldare i cannabinoidi, il cannabidiolo e il cannabigerolo, perdono la componente acida, diventano neutri e non si legano più allo spike. E quindi di fatto non hanno più questa proprietà che lì è stata, diciamo così, evidenziata in questo studio. È un primo studio, sicuramente ne verranno fuori altri, con componenti ancora diversi, quindi ci sarà molto ancora da vedere. La cosa interessante di questo studio è che comunque ha messo i riflettori sulla cannabis, questo dal nostro punto di vista, questo lo possiamo sicuramente dire. Più si parla del tema cannabis e più ne se ne parla in modo scientifico comunque, per noi è sicuramente importante. Certo, e poi sicuramente possiamo, credo, occuparci anche di quelle sintomatologie da infezione covid-19 su cui la potenzialità della cannabis di supporto all'insorgere di certe sintomatologie è già assodata a livello scientifico, però questo poi risponda sempre Bertolotto, per esempio negli effetti neurologici. Gli effetti neuroprotettivi della cannabis possono supportare il paziente affetto da sintomatologie post-covid? Allora, alla domanda è utile la cannabis del paziente che ha preso covid, diciamo nella fase acuta? Dico di no, non ha logica. All'altra domanda, cioè la domanda invece nella fase di post-covid, nella fase di non-covid, laddove ci sono tutti quei fenomeni che sono gli effetti dovuti a un processo infiammatorio che è durato a lungo tempo, che non è stato governato nel modo corretto, allora la cannabis lì è utile, perché comunque dove c'è una neuropatia sappiamo che la cannabis è utile, perché ne conosciamo i meccanismi d'azione del THC e del CBD. Io adesso quando parlo di cannabis parlo di quello che conosciamo, cioè tetraidrocannabinolo e cannabidiol. THC e CBD sicuramente hanno un'azione interessante, sia come azioni antinfiammatorie, quindi nei fenomeni di infiammazioni croniche e laddove ci sono delle neuropatie e laddove è in qualche modo compromesso o interessato il sistema immunitario, certamente la cannabis è di grande aiuto, ma già lo stiamo utilizzando. Io sto già seguendo pazienti che hanno della patologia del long covid, quindi queste cose che vengono poi dopo, che si manifestano per lungo tempo, già lo stiamo utilizzando, così come lo stress, post-covid, insomma sono tanti i campi in cui noi possiamo utilizzare. Quindi già ci sono delle evidenze scientifiche, diciamo. Allora non posso dire scientifiche sul covid, posso dire sicuramente cliniche perché le vediamo, lo facciamo tutti i giorni, scientifiche ci sono diciamo su tutti quei fenomeni che si manifestano col covid, cioè se parliamo di neuroinfiammazione che si verifica col covid ci sono evidenze scientifiche sulla neuroinfiammazione dovute ad altre patologie, così come ci sono evidenze scientifiche su quelle infiammazioni croniche anche a basso, come posso dire, a basso impatto dove noi sappiamo che la cannabis funziona bene, quindi evidenza scientifica ce n'è veramente tanto, ormai sulla cannabis penso che i lavori ce n'è una quantità infinita. Sì, le proprietà antinfiammatorie. Sì, antinfiammatorie, neuroprotettive, sicuramente sì. Ecco, su chiederei un intervento alla dottoressa Florian perché appunto sulle proprietà antinfiammatorie della cannabis abbiamo dati già noti, sappiamo anche che nell'ottica di una medicina integrata un'alimentazione corretta è indispensabile in questo senso. quali risultati si possono raggiungere, quale potenzialità ha l'abitudine a un'alimentazione corretta unitamente alla terapia con cannabis? Allora, il potenziale è enorme anche in questo caso, un po' come diceva il dottor Bertolotto, in realtà lo possiamo valutare soprattutto clinicamente più che in maniera francamente scientifica perché comunque anche nell'ambito nutrizionale ci servono sicuramente più studi più dettagliati insomma anche per singola patologia e soprattutto che mettono in relazione determinate strategie alimentari. Iniziano ad esserci, ci sono, ad esempio comunque è possibile trovare anche di questi ultimi anni, nel 2020-2021, studi pubblicati ad esempio su dieta chetogenica e pazienti Covid, quindi c'è un certo movimento, un certo fermento a riguardo, proprio perché anche l'alimentazione si può intendere come una vera e propria terapia. Quindi vediamo che nei nostri pazienti, quindi quando un paziente viene da noi magari cercando intanto un intervento farmacologico con terapia appunto a base di cannabinoidi, va praticamente da sé proporgli poi un intervento di natura nutrizionale e un po' riprende la stessa filosofia della terapia con cannabinoidi, perché è un intervento che può essere personalizzato, anzi deve essere personalizzato sul singolo paziente, perché anche qua quando iniziamo a parlare di corretta alimentazione dobbiamo stare un attimino attenti a pensare alle linee guida diciamo strutturate e nate su studi epidemiologici, quindi su grandi numeri, oppure quella che veramente può essere la corretta alimentazione per il singolo, perché c'è una grandissima differenza. Quindi dal punto di vista proprio di un modello di medicina integrata, che è quello che il Centro Clean si propone di fare e di sviluppare, un intervento nutrizionale strutturato sul singolo paziente come la terapia con cannabinoidi sicuramente può andare a lavorare in maniera molto efficace sulla qualità di vita del paziente, sull'intensità dei suoi sintomi, sulle fasi anche di riacutizzazione di una patologia cronica, perché i nostri pazienti tendenzialmente sono pazienti con patologie croniche di natura metabolica e non, e quindi va proprio a fare un lavoro integrato e sinergico con la terapia. L'aspetto interessante della nutrizione è che non è un intervento solo sintomatologico, ma se si riesce a trovare una strategia a cui il paziente riesce anche ad aderire sul lungo termine, si può avere un intervento diretto sulla progressione di malattia, è un po' da prendere con le pinze, però comunque si può lavorare veramente sullo stato, sulla biochimica, sulla fisiologia del paziente, quindi è veramente un approccio molto interessante. Cioè andare un po' alle basi di quella che è la patologia. Esatto, praticamente è un po' fare un intervento a 360, parti dal sintomo per poi andare a lavorare anche sulle cause, quindi ad esempio un paziente che ha un'attività di patologia o due dolori cronici, è un intestino malfunzionante, sicuramente ripristinare una buona salute intestinale, un buon lavoro intestinale può fare una differenza che il paziente finché non prova non sa fondamentalmente, quindi va anche proposto in un certo modo questo tipo di intervento, è chiaro che prendere delle gocce piuttosto che cambiare un'abitudine alimentare, una routine alimentare richiede un'aderenza decisamente diversa, però se il gioco vale la candela io penso che insomma il paziente sia ben disposto a portarlo avanti. Certo, è chiaro qua la prospettiva di una medicina integrata, mi sembra anche venga fuori una cosa importantissima e credo che ormai i tempi siano maturi non solo perché Clean lo propone ma perché credo che l'intero settore ne abbia bisogno di un'analisi specifica paziente per paziente della sua condizione di salute per delle terapie mirate oltre che in una prospettiva integrata. Penso di aver capito giusto, ecco, se è così che intendeva la dottoressa Florian, cioè come dire non ti do la cannabis come la do a te, la do a chiunque e come potrei prendere la tachipirina perché mi viene la febbre. No, esattamente, quindi il principio non è che quello che, anche la posizione nutrizionale non è che, ah, la mia vicina di casa sta meglio facendo così questa dieta, allora la faccio anch'io. No, il discorso non è assolutamente questo, come non lo è che una determinata terapia con cannabis, quindi un determinato rapporto THC-CBD per una persona vada bene automaticamente anche per un'altra persona, anche se la diagnosi è la stessa paradossalmente. Quindi il discorso di personalizzazione è proprio quello di avere ovviamente una serie di strategie in mente che sono minimo standardizzate, perché comunque abbiamo delle, non è che ogni volta proprio partiamo da zero, abbiamo delle idee, ma poi nello sviluppo di queste idee, di questi approcci, ovviamente dobbiamo cucire gli vari interventi proprio addosso al paziente sulla base delle sue reazioni, sia al farmaco che alle proposte nutrizionali. Anche perché mi immagino che si parta da una visita a un paziente che lamenta magari tutta una serie di sintomatologie, però poi magari vengono fuori altre situazioni, altre connessioni rispetto a una situazione poi da guardare a 360 gradi. Esatto. che è un po' appunto il focus di CLEAN. Ora, visto che mi sembra un ragionamento innovativo ma anche ormai essenziale da portare avanti nella cura del paziente, a questo punto faccio una domanda a Salvatore Martorina, direttore operativo, quindi mi sembra proprio giusta per te, come si traduce questo sforzo? Perché è innegabile che sia uno sforzo, un conto è avere un farmaco, una terapia già pronta da sottoporre a tutti quelli che lamentano quel disturbo, seppur con posologie diverse, perché adesso non è che voglio dire vai in ospedale e ha la stessa malattia, danno tutti la stessa terapia, però entrare proprio nello specifico della storia di un paziente e quindi sposare una prospettiva di medicina integrata giornalmente, quotidianamente, come si traduce in concreto nel lavoro degli specialisti e nell'organizzazione di una clinica? Guarda Romana, innanzitutto diciamo che il progetto CLEAN nasce ovviamente contestualizzato in quello che è il mondo e il settore della cannabis medica in Italia, nasce appunto per facilitare l'accesso alle terapie con la cannabis medica e per offrire al paziente la possibilità di essere partecipe del proprio processo di cura attraverso appunto la medicina integrata e personalizzata. Semplificare l'accesso a questo tipo di terapia per noi di CLEAN significa principalmente offrire una nuova possibilità di trattamento a centinaia di pazienti, in particolare a coloro che magari continuano a non trovare beneficio dalle terapie con i farmaci convenzionali. Quindi per riuscire in questo il primo step da parte nostra è stato quello di andare ad individuare quelli che fossero i bisogni sanitari del paziente e ci siamo resi conto di come non sarebbe, cioè non bastava creare un servizio che fosse in grado di soddisfare una domanda di prestazioni, quindi non bastava creare una rete di medici prescrittori che come dicevate prima si limitasse al rilascio della prescrizione, quindi bisognava essere proattivi nei confronti del paziente proprio per facilitare l'interazione tra il paziente e il sistema cannabis terapeutica in Italia che non è proprio diciamo così molto semplice. Quindi da subito, grazie all'esperienza dei nostri medici, ci siamo adoperati per garantire ai nostri assistiti le massime facilitazioni nell'accesso alle terapie. Per esempio abbiamo attivato da subito dei servizi di telemedicina che servivano a limitare gli spostamenti nella fase acute della pandemia, al contempo servono anche ad abbattere le barriere geografiche, ci consentono di poter offrire un servizio di qualità anche a pazienti in altre regioni d'Italia. Abbiamo attivato dei canali di comunicazione diretta per consentire la relazione medico-paziente, un servizio interno che consentisse al paziente di ridurre i tempi di ricerca e di reperibilità del farmaco, diciamo che è una problematica molto importante. La conosciamo, perché ovviamente a noi arrivano poi alcune richieste di aiuto che non sempre riusciamo a soddisfare, ma è un grandissimo problema. Sì, ne abbiamo anche discusso, affrontato il tema nella scorsa registrazione che abbiamo fatto con fine alla scorsa diretta. Quello che diciamo che tutto questo insieme di servizi si è tradotto in un vero e proprio programma di supporto per il paziente, che abbiamo chiamato Clean Per Te, è che vede il coinvolgimento di tutto lo staff, quindi dal personale medico al personale amministrativo, quindi coinvolgimento quotidiano. Per quanto riguarda il secondo aspetto, quindi la centralità del paziente, anche in questo caso ci siamo resi conto di come il paziente necessita di essere coinvolto nel proprio processo di cura. Deve essere supportato lungo tutto il percorso. Quindi è molto importante riuscire a instaurare un rapporto di fiducia e di comprensione reciproca, la famosa alleanza terapeutica. Per riuscire in questo abbiamo sviluppato, in realtà lo stiamo ancora facendo, dei modelli di presa in carico individuale, che prevedono appunto il coordinamento di diverse figure mediche, che prevedono lo svolgimento di esami strumentali, che hanno appunto il compito di documentare i risultati e la qualità delle terapie proposte. Abbiamo previsto un sistema di follow-up per agevolare il processo di cura e l'aderenza terapeutica, quindi delle visite di monitoraggio a cadenza preordinata, perché proprio la scarsa aderenza terapeutica, soprattutto nelle fasi iniziali della terapia, rappresenta una delle principali cause di insuccesso. Quindi nella maggior parte dei casi i nostri pazienti segnalano dei benefici dopo due o tre mesi dall'inizio della terapia. I nostri medici in fase di prima visita si occupano, cioè educano anche il paziente, fanno chiarezza sulla tempistica del trattamento, sulla carenza del follow-up, sul rispetto della posologia, che sono tutti fattori che poi nel loro insieme contribuiscono al successo della terapia. Altro aspetto importante del modello di presa in carico riguarda il servizio di counseling, proprio per tutto quello che ho spiegato fino adesso, poter usufruire del supporto di un counselor esperto può risultare determinante per il paziente, perché comunque il counselor aiuta a mantenere il contatto costante con il medico, quindi facilita l'alleanza terapeutica, educa il paziente ad un approccio personalizzato, quindi anche ad autocurarsi. Al tempo stesso verifica che il leader proposto dal medico sia comunque rispettato, quindi verifica l'aderenza terapeutica, quindi dà un sostegno in più al paziente, un supporto psicologico individuale per il paziente, attraverso il quale il paziente può raggiungere degli obiettivi, come può essere anche il benessere personale. Ecco, tutto quello che ho provato a spiegare adesso, molto brevemente, rappresenta di fatto il punto di forza, il carattere distintivo di clean nel nostro centro. Uno sforzo notevole, diciamo che rimette al centro il paziente, la relazione col paziente come soggetto attivo della terapia, coinvolto, convinto, anche perché appunto in un'ottica di medicina integrata non ti do la pillola e tu stai meglio, a parte che non sempre succede così anche proprio nei metodi più tradizionali e quindi se il paziente non è coinvolto, non è convinto e non è continuamente in relazione di fiducia con il medico, si rischia di non portare a casa poi il risultato che è il benessere del paziente. Quindi si torna agli aspetti psicologici inevitabilmente e che poi di fatto ci riportano per esempio subito indietro al Covid perché sappiamo tutti sulla nostra pelle, oltre che se ce ne fosse bisogno credo ci siano anche studi che ormai lo comprovano scientificamente, questi anni di pandemia e di gestione della pandemia, quindi lockdown, quarantena eccetera eccetera e tutto quello che hanno portato dietro hanno innescato una crescita esponenziale dei disturbi relativi alla salute mentale, ansia, stress, i giovani, i bambini addirittura, ci sono neuropsichiatrie ormai che non sanno più dove mettere le mani. La cannabis ancora una volta può intervenire come supporto, però vi chiedo, forse posso chiederlo alla dottoressa Florian, proprio per dare sempre spessore scientifico a quello che diciamo, come THC e CBD possono effettivamente supportare nella gestione di disturbi da ansia e stress, fuori dall'immaginario ti fumi la canna e ti tranquillizzi perché dobbiamo riportare poi invece la discussione su un altro livello, no? Ok, vabbè, diciamo che in questo breve tempo che abbiamo per parlarne sicuramente non raggiungeremo una specificità così elevata, sicuramente il THC e il CBD sono due principi attivi che ormai notoriamente riescono a lavorare in diversi contesti neuropsichiatrici e psichiatrici anche se in modo diverso. La differenza principale in realtà proprio anche nell'indicazione clinica in questo senso è che sappiamo il THC avere degli effetti psicotropi e che quindi in alcune condizioni relative a come patologie psichiatriche, specialmente quelle caratterizzate da psicosi, tendenze suicidari e insomma situazioni abbastanza gravi e gravi clinicamente o comunque anche da un'ansia particolarmente forte, agitazione forte, può essere difficile da gestire, anzi alle volte può essere addirittura sconsigliato perché appunto la sua azione diretta a livello del sistema neurocentrale può slatentizzare alcune problematiche o intensificare quelle già presenti, quindi sicuramente bisogna calmierare l'utilizzo del THC in questo senso, specialmente di fronte anche a pazienti a pazienti giovani o comunque a pazienti che non hanno mai fatto uso di cannabis in generale perché in realtà questo che ho appena detto molte volte risulta nell'esperienza clinica un po' sfatato perché se si presenta il paziente giovane, maggiorenne, talvolta anche non, con disturbi d'ansia, con tratti psicotici, è molto probabile che in realtà in autonomia abbia già fatto ricorso a una cannabis non medicale ma comunque ad alto contributo di THC perché difficilmente quella che abbiamo in giro ha un basso THC e abbia riscontrato in realtà beneficio sulla sua sintomatologia, sul suo stato di ansia, sul suo stato di agitazione, quindi non un peggioramento come clinicamente ci potremmo aspettare. Quindi in realtà anche in questo caso si dimostra una gestione veramente individuale della terapia per il singolo paziente. La presenza del CBD in tutto questo in realtà è fondamentale perché specialmente nell'ambito neuropsichiatrico infantile invece quando abbiamo problematiche legate al comportamento, legate al disturbo dello spettro autistico, a DHD, quindi condizioni completamente differenti, la letteratura ci dice che il CBD in realtà ha un'azione, cioè può andare a lavorare socialmente in contesti farmacoresistenti con una buona efficacia. Sicuramente abbiamo bisogno di informazioni in più per capire quali sono effettivamente i dosaggi effettivi e sul lungo termine eventuali effetti collaterali che ad oggi non sono particolarmente noti, però anche in questo caso a differenza dei farmaci, non mi piace usare il termine tradizionale perché qui non si sta parlando di un qualcosa di tradizionale, così alternativo, qui si sta parlando di integrazione, quindi però per semplicità lessicale diciamo i farmaci ortodossi tradizionali per questo tipo di situazioni, il CBD non avendo un effetto psicotipo, non agendo direttamente al sistema di esodo centrale non va a spegnere il paziente, cioè ha un meccanismo di azione per cui abbiamo molto spesso una maggior tranquillità, una maggior gestione anche da parte delle famiglie comunque di pazienti, di minori neuropsichiatrici che li vedono più attenti, più presenti, ma più tranquilli. Quindi è molto difficile anche da spiegare a livello biochimico eccetera perché dobbiamo capire tante cose ancora sia delle patologie in sé, perché già lì abbiamo delle spune, sia anche dei meccanismi di azione del farmaco, però comunque questi effetti sono assodati. Talvolta l'associazione dei due come sempre si dimostra la scelta vincente, perché comunque la compresenza di CBD e THC ci permette di avere il meglio da entrambi. Un minimo di THC comunque dà alle volte una resa terapeutica che da sola col CBD non riusciremo e non riusciamo a ottenere e lo sappiamo perché iniziamo prima con un singolo step, con il singolo CBD e poi ci troviamo magari a raggiungere il THC dopo come seconda scelta e con una maggiore efficacia terapeutica. Quindi anche in questo caso per il singolo dobbiamo capire qual è la strategia migliore. È chiaro che poi se si parla di contesti sociali che possono portare al peggioramento, allo sviluppo di alcune sintomatologie, di nuovo torniamo a quello che è un modello integrato perché non si può e non si deve pensare di lavorare solo con un farmaco, perché poi è anche sbagliato dare al paziente l'idea che sia il farmaco a fare il lavoro al posto suo, cioè il farmaco deve essere un supporto, deve essere un qualcosa che ti permette di recuperare quello che hai perso e di rimetterti in carreggiata. Non è un dramma prendere un farmaco, cioè se in quel momento ne hai bisogno che sia cannabis che sia altro, se c'è un'indicazione quello va preso perché esiste, però è perché può essere utile, però giustamente si deve fare tutto quello che è possibile per dare un supporto il più completo possibile ovviamente. Sembra una modalità però ad oggi non è così scontato, specialmente quando il supporto deve essere di origine psicologica. Certo, diciamo creare le condizioni perché il paziente possa lavorare più agevolmente su quei disagi. Possa sì, avere un supporto per lavorare sul suo sintomo, ma avere anche un sostegno dei riferimenti, delle strategie aggiuntive per comunque imparare a conviverci, a gestirlo e non esserne condizionato, perché il problema è che se poi hai l'attacco di panico, l'attacco di ansia, non sei più sicuro di te stesso chiaramente, cioè non sai ogni volta che hai un evento o qualcosa di diverso dal solito, non sai come reagire, non hai il controllo della situazione e devi avere degli strumenti che ti permettano di averlo, di raggiungerlo, di migliorarlo, oltre al farmaco, specialmente se parliamo di un paziente di 20-25 anni, anche meno, che ha una vita da affrontare. Quindi anche in questo caso, ad esempio anche con l'intervento nutrizionale possiamo andare a lavorare, perché l'asse intestino-cervello è un concetto che ormai è assodato, quindi di nuovo anche fare un qualcosa che sia un po' fuori dall'ordinario, quindi dire vado a lavorare sull'alimentazione per lavorare sul sonno, per lavorare sull'ansia, beh sì, perché non hai idea di quanto questo possa influire, ogni cosa che noi facciamo, che ingeriamo è un segnale biochimico, quindi non possiamo ormai più pensare che non c'entri nulla. Quindi insomma ecco, il modello è sempre questo, un singolo intervento non basta, è giusto dare al paziente un ventaglio di possibilità e strutturare con lui un percorso che possa renderlo il più autonomo possibile, ecco. Certo, certo, sicuramente quello che ingeriamo, soprattutto i giovani, soprattutto l'abuso di alcol è il sintomo di malesseri che voglio dire sommersi, sui quali bisogna andare a lavorare a più mani, no? Nel senso che cercare di creare spazio per individuarli questi disagi e aiutare il paziente a curarsi, prendendosi anche cura di sé. In questo appunto cannabis, THC e CBD dosati nel modo giusto e proposti nel modo giusto quindi possono essere diciamo da supporto nella fase assolutamente, di enorme supporto iniziale. Sì, anche per evitare di ricorrere comunque ad altri farmaci, di non aumentare l'usaggio di altri farmaci, quindi insomma sono veramente una strategia notevole e che il paziente approccia anche con maggior tranquillità, non so, ci sono tanti pregiudizi legati alla cannabis paradossalmente, ma quando il paziente vuole intraprendere questa terapia è perché ha molti pregiudizi legati anche agli altri farmaci o perché ha esperienza con altri farmaci che non hanno avuto l'effetto terapeutico desiderato o perché insufficiente o perché non adatti o perché hanno provocato anche una serie di effetti collaterali indesiderati e che quindi ne compromettono un'assunzione poi continuativa nel tempo. Quindi sono comunque, è comunque una proposta che in questo momento è veramente vincente sotto tanti punti di vista. Va bene, nel frattempo poi sicuramente la nostra discussione è aperta alle domande del pubblico, quindi sempre che poi non vogliate aggiungere qualcosa, interrompetemi pure, vi sottoporrei anche qualche domanda calda. Poi magari cerco io di rivolgerla a qualcuno di voi, ma ditemi voi se indico lo specialista giusto, insomma sentitevi ovviamente liberi, io sono solo di sfondo. Allora, vediamo. Ovviamente poi parlando di Covid non si può non porvi una domanda sul vaccino. Allora, devo fare a breve la terza dose del vaccino. Ci sono interazioni con la terapia con cannabis? Forse, ecco, il Bertolotto ci può... C'è una domanda che abbiamo tutti i giorni questa. I nostri pazienti che prendono cannabis ci chiedono in continuazione se possono fare il vaccino. Noi diciamo tutti di sì, certamente. La cannabis non è una controindicazione. Poi a volte hanno patologie per cui prendono la cannabis dove loro magari possono esserci controindicazioni, ma non dovute alla cannabis, dovute alla patologia che hanno. Ok, nessuna dose, né prima, né seconda, né terza, né un domani e una quarta. Non c'è proprio... non c'è relazione, perlomeno non c'è relazione conosciuta, insomma, ma conoscendo un po' come funziona la cannabis non dovremmo avere nessuna problematica, quindi a tutti abbiamo dato l'indicazione di fare il vaccino. Allora, assumo cannabis con vaporizzatore. In caso di positività al Covid, potrei continuare a vaporizzarla senza problemi o sarebbe sconsigliato? Florian, vuole rispondere lei? Anche in questo caso assolutamente non vedrei il motivo per sospenderla, assolutamente no, specialmente anche perché la vaporizzazione è la via migliore per assumere il cannabis per via nell'alatoria, non essendoci tabacco. L'unica cosa magari di, a prescindere dal Covid, di sapere che il vaporizzatore sia di un certo tipo, ecco, non tutti i dispositivi sono medicali, certificati come medicali per inalare, per vaporizzare la cannabis, quindi una particolare attenzione a quella già che ne stiamo parlando, però in relazione al Covid non c'è indicazione a sospendere. Ok. Allora, come possiamo pensare alla cannabis per contrastare il Covid quando in Italia il pregiudizio su questa pianta è così forte? Qua andiamo un po' sul politico. Mi riferisco anche alla bocciatura del referendum, ovviamente. Da poco abbiamo ricevuto il diniego. Sì. Bertolotto. Intanto abbiamo già detto che la cannabis non ci serve per contrastare il Covid, perlomeno nel cui abbiamo parlato all'inizio, quindi diciamo il tema non è questo. Il tema del referendum è altra cosa, nel senso che il quesito era posto male, quindi è stato respinto. Poi noi francamente ci interessiamo e soprattutto, anzi, esclusivamente a quello che è la cannabis di ipoterapeuta, quindi quello che noi continuiamo a dire alle persone che ci chiedono su questo tema, sulla coltivazione di cannabis, dell'autocoltivazione, che quando uno è ammalato e quindi ha una patologia, deve essere seguito da un medico, cioè deve essere seguito da qualcuno che è competente di patologia, competente di farmacologia, sa seguire una persona ammalata, la sa seguire nel tempo, la sa prendere cura. Ora, quindi pensare di dire alle persone che siccome manca la cannabis, tutta la coltivi in questo modo, allo stesso modo non è, adesso l'asperina non manca, ma se mancasse l'asperina non è che li possiamo dire coltivati i salici, poi ti preaccio di aceto di salicirico e così avanti, ti coltivi l'oppio perché non c'è la morfia. Il problema sta nel fatto che la cannabis manca perché c'è un problema. Poi il problema riguardava proprio quello, no? Cioè che si abrogava, come dire, la parola coltiva nel referendum, poi si rischiava di dare il via libera alla coltivazione di qualsiasi cosa. Quello è il vero tema, io lo dico, allora noi siccome tutti i giorni combattiamo con la carenza di prodotto, di cannabis, di cannabis terapeutica, proprio i nostri pazienti sono pazienti di serie B, dobbiamo dirlo, l'ho fatto presente al Ministero, incontrerò la prossima settimana il sottosegretario, lì dirò di nuovo questa cosa qua. È impensabile che noi abbiamo pazienti che non abbiano la terapia per potersi curare. Quando poi lo Stato ha fatto una legge che dice che noi possiamo utilizzare la cannabis qualora ci sia inefficacia terapeutica da una parte dei farmaci tradizionali o effetti collaterali. Quindi non è che poi puoi dirmi, beh se non c'è la cannabis dai qualche cos'altro, perché mi hai detto che la devo usare quando non c'è qualche cos'altro e poi mi lasci per strada. È veramente una cosa, un non senso. E far credere alla gente che ti puoi coltivare la cannabis perché così ti curi e li spingi a commettere un reato che devo dire che le persone comunque fanno, perché noi molti dei nostri pazienti quando sono senza terapia vanno a cercarla là dove la trovano e lo sforzo di Clean è proprio in questo. Cioè Clean lavora, come diceva prima Salvatore, stiamo lavorando proprio per assicurare la terapia a questi pazienti, per cui abbiamo una rete di farmacie con cui noi siamo collegati e ci sono delle volte che facciamo arrivare in Val d'Aosta la cannabis che parte della Sicilia, cioè li facciamo fare tutta la strada a questo prodotto. Perché? Perché altrimenti il paziente ci rimane senza terapia, non ce lo possiamo permettere. Noi ai nostri pazienti diciamo che li prendiamo in cura, prenderli in cura vuol dire che dobbiamo assicurargli la terapia. Ma non è così facile, non è così facile perché il numero di pazienti aumenta, la cannabis manca, non c'è certezza, il ministero devo dire che lo sta facendo il lavoro che deve fare. E questa storia del referendum ha fatto, ha confuso, un'altra volta ha confuso le idee. Io continuo a dirlo, anche ho avuto una call con l'onorevole Bonino a cui ho detto differenziate la cannabis terapeutica dalla cannabis per uso ludico. Sono due mondi diversi, sono due tipi di persone diverse. Uno sono pazienti ammalati, l'altro sono persone che vogliono trovare, come posso dire, così il piacere da una cannabis, ma sono proprio due mondi completamente diversi, vanno differenziate. Abbiamo conosciuto come cannabis terapeutica molti pazienti, in una sezione del sito parla proprio delle testimonianze dei pazienti. Personalmente mi sono occupata di raccontare le storie di alcuni bambini per i quali, per l'epilessia dei quali l'unica terapia efficace è cannabis e per loro la terapia è quella, non può essere la pianta in casa e deve essere quella continuativamente senza interruzioni, con delle situazioni drammatiche che poi vengono sopperite perché il singolo farmacista mette in lista di attesa prima la bambina rispetto a qualcun'altro. situazioni anche davvero abbastanza drammatiche, entrano con la questione del referendum ovviamente. No, ma è così, è così. Noi potremmo fare un elenco di patologie, ma un elenco di persone che è più importante delle patologie, proprio persone che aspettano, che ti scrivano tutti i giorni e dicono dottore non ce la faccio più, ne ho bisogno, ne ho bisogno per vivere, cosa devo fare, sto pensando al suicidio perché adesso sto male, cioè prima mi date la cura, poi me la negate, è veramente un lavorare incredibile. Speriamo presto che il governo trovi una soluzione anche a questo. Speriamo, dovrebbe essere insomma loro dovere, no? Sì, esatto. Passiamo oltre, allora, sempre Covid ovviamente, da quando c'è il Covid ho paura di frequentare posti affollati? Qui, ecco, la cannabis medica può sostituire gli ansiolitici, forse adatta a Florian, ne abbiamo già parlato. Sì, esatto, alla fine riprendiamo un po' quello che abbiamo già accennato prima, sì, diciamo che la cannabis può essere utilizzata a questo scopo, quindi quello anche di controllare, in questo caso forse l'agorafobia, piuttosto che stati d'ansia relativi a determinate condizioni, può sostituire gli ansiolitici, sì, nel senso che possiamo darla in luogo degli ansiolitici, affiancarla in un primo periodo se il paziente già li ha studi, comunque perché diciamo che se c'è già una determinata durata terapeutica con alcuni tipi di farmaci, non è che perché si inizia la cannabis dall'oggi al domani è consigliabile sospenderli, insomma ci vuole un certo studio, insomma un certo percorso, però assolutamente è indicata e chissà se non posso sostituirli direttamente, sì, assolutamente. Allora, beh l'ultima, ritornerai a Martorina perché ti ho lasciato troppo tranquillo Salvatore. Ci provo. Sono piuttosto teso e contraggo i muscoli delle spalle in maniera involontaria, il mio fisioterapista mi consigliava l'uso del CBD, può essere utile l'olio che si compra online? Ecco qua, si apre. Innanzitutto mi leggo con piacere che ci sono anche degli altri operatori sanitari, non solo medici, che consigliano l'uso del CBD in questo tipo di procedure riabilitative. Ma guarda, le procedure, le proprietà niorilassanti, antinfiammatorie del CBD, così appunto come le sue applicazioni in ambito riabilitativo, sono ormai note e devo dire anche supportate da diverse evidenze scientifiche. Ricordiamoci però che nonostante il CBD non ha alcun effetto psicoattivo, stiamo comunque parlando di un principio attivo, stiamo comunque parlando di una molecola, di una materia prima farmacologicamente attiva. E quindi come tale, quando si valuta di acquistare un prodotto al CBD o di assumere un prodotto al CBD, dobbiamo innanzitutto pensare che stiamo acquistando, o comunque vogliamo acquistare un prodotto di tipo farmaceutico fondamentalmente, quindi l'acquisto dovrebbe avvenire in farmacia, previa il consiglio di un medico e la prescrizione di un medico. Quindi acquistare un prodotto online, un olio al CBD, ma qualsiasi tipo di prodotto al CBD online oggi significa nella maggior parte dei casi acquistare un prodotto ad uso tecnico, quindi un prodotto che non è previsto l'uso umano, può essere utilizzato dall'uomo e che come tale anche può avere dei potenziali rischi per la salute. Anzi mi viene, vado a notizia di qualche settimana fa, mi sembra in Svizzera, da un'indagine che è stata fatta dall'associazione dei chimici svizzeri, mi sembra che è venuto fuori che l'85% dei prodotti venduti online in Svizzera ovviamente non fosse conforme perché aveva dei valori di THC troppo elevati o comunque non soddisfava gli standard di produzione. Quindi sicuramente il CBD può essere utile nel trattamento o nelle contrazioni muscolari o comunque anche nel trattamento di altre patologie che interessano l'apparato muscolo-scheletico, però è sempre importante prima di farne uso rivolgersi al proprio medico di famiglia o comunque uno specialistico. Per quei medici di famiglia che ci sono. Faremo una puntata sui medici di famiglia. Iniziano ad intrettarsi, a chiedere, a parlare. Io direi quasi tutti i giorni qualche medico di famiglia mi chiamo per sapere, per conoscere. Poi c'è tanta burocrazia. Il primo step del paziente, il primo step come primo step si rivolge a loro. Se anche loro iniziassero a consigliare questo tipo di terapia, diciamo che... È ancora un po' divisivo, io lo dico da paziente, da figlia di paziente, è ancora un argomento un po' divisivo. Il CBD è, neanche il THC, il CBD. Qualche medico che mi dice ma io non ci credo tanto come se si parlasse di fede, però sicuramente rispetto a cinque anni fa, tre anni fa, l'anno scorso, come dire, non credo che si possa tornare indietro e la divulgazione scientifica ha portato avanti poi una diffusione di informazioni, di coinvolgimento rispetto ai risultati, alle ricerche, agli studi clinici. Quindi è un moto che secondo me non è che si arresterà, non si tornerà indietro. Ecco, quindi adesso giungendo anche un po' alla conclusione, ringraziandovi perché ogni momento di confronto è importante in questo moto che deve andare avanti, di diffusione delle informazioni, fatte puntuali, con precisione e spero appunto di partecipare nuovamente, di approfondire altre tematiche, magari anche di sottoporvele e di continuare insomma in questa collaborazione, proprio perché appunto riceviamo tante richieste di informazioni anche da medici stessi che ci scrivono chiedendo informazioni, quindi ci impegniamo nel nostro ruolo che è prettamente quello giornalistico di fare informazione, ma rimettendo poi a voi il compito principale. Grazie Romana. Se non volete aggiungere nient'altro salutiamo e con un ultimo ringraziamento, sperando di rivedervi presto, vi auguro un buon viaggio. Ci vediamo il prossimo mese con la nuova diretta, ti riconfermiamo, ti riconfermiamo, anche perché se no devo farlo lì nel moderatore, ti gioco. No, 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 partecipo molto volentieri allora. Ok, grazie Romana. Ciao a tutti. Un saluto a tutti. Arrivederci, grazie. Grazie. Grazie.